Adesso andiamo a vedere uno scorrevole motorizzato con un sistema di meccatronica seccosistema. Lo scorrevole ad angolo. Questa anta qua si abbasserà. Quando il motore abbassa questa anta, quell'altra può entrare dentro e bloccare la prestazione. Abbiamo un angolo ridottissimo, molto bello da vedere, gradevole per un'apertura totale della stanza per il vostro soggiorno. L'apertura viene sempre rimuovata. La seconda si alza e poi scorre. In modo elegante e veloce per aprire il vostro soggiorno.